Bentornato su Gossip in the News. La sinistra vuole cancellare l'identità. Un giorno ci spiegherà cosa vuol dire. Intanto le vorrei ricordare che lei in questo anno e mezzo sta cancellando la libertà delle persone. Voglio chiudere con una domanda che intendo rivolgere alla segretaria del Partito Democratico, Haley Schlein. La segretaria Schlein ha detto di recente che in questo anno e mezzo di governo io starei cancellando la libertà delle persone. Accusa singolare, diciamo così, per chi ha votato i provvedimenti per chiudere dentro casa la gente durante la pandemia. Provvedimenti sui quali invece noi votammo contro. Ma in ogni caso, tra persone serie, quando si muove un'accusa, soprattutto se è un'accusa pesante, si deve anche essere nella condizione di argomentarla. Allora voglio chiedere a Haley Schlein di dire con chiarezza quali siano le libertà che sarebbero state cancellate da questo governo e con quali provvedimenti sarebbero state cancellate. Perché quello che vedo io è che noi stiamo riformando questo sistema per consentire alla gente, per esempio, di votare direttamente il capo del governo, libertà di voto, la sinistra è contraria. Per aiutare le imprese italiane a essere competitive e ad assumere libertà di impresa, la sinistra è contraria. Per aiutare le donne a non dover scegliere tra mettere al mondo un bambino e avere un posto di lavoro, libertà di scelta. E la sinistra non ci dà una mano, eccetera, eccetera, eccetera. Le nostre sono battaglie di libertà. Quindi ci dica il Partito Democratico e ci dica le Schlein quali sono le libertà che avremo cancellato. Se invece si sta facendo, diciamo così, un po' di propaganda, un po' di slogan gettati al vento e la segretaria Schlein fa riferimento, per esempio, come ha fatto, al fatto che non abbiamo approvato il salario minimo, allora mi corro l'obbligo di ricordare alla segretaria Schlein che in dieci anni di PD al governo non hanno introdotto il salario minimo e a differenza nostra loro non hanno neanche tagliato il cuneo per aumentare gli stipendi dei lavoratori come invece abbiamo fatto noi. Se invece la segretaria del PD parla di sanità, allora mi corre l'obbligo di ricordarle che siamo il governo che nella storia d'Italia ha messo più soldi sul fondo sanitario. Oppure ci dica di che cos'altro parla, ma ci dica qualcosa di concreto, perché queste non sono accuse che si fanno senza essere argomentate. La libertà in Italia è sempre stata limitata solo dalla sinistra. Il punto è che i cittadini lo hanno capito. Grazie a tutti, alla prossima!